Il periodo del lockdown, del primo lockdown perlomeno, è stato il periodo con il più alto numero di webinar che io penso nella storia degli ultimi X anni da quando esiste la tecnologia abbia avuto così tanta concentrazione. Le associazioni di categoria, come hanno utilizzato questo periodo? Le associazioni che fanno tantissima formazione, quanto hanno utilizzato gli strumenti tecnologici e soprattutto qual è il grado di tecnologicità dell'agente immobiliare medio? A noi piace pensare all'idea di un'agenzia multidisciplinare, multiservizi che è sempre più, tu prima hai citato due termini anglosassone, io dico sempre più figital quindi sicuramente la parte empatica e emozionale che è quella che ovviamente nel nostro lavoro è fondamentale per accompagnare le persone a prendere una decisione così delicata e importante come l'acquisto di una casa ma unitamente, e ce l'ha insegnato il lockdown, alla tecnologia, alla digitalizzazione. Noi, è stato detto bene prima, chiaramente il lockdown ha creato un momento di grande dispersione se vogliamo, di preoccupazione, di stordimento generale, come prima come persone e poi sicuramente come operatori è qui che si vede la capacità di reazione poi del professionista e qui la fondamentale presenza e importanza dell'associazione di categoria che unitamente poi alle aziende, alle reti, tramite i loro funzionari, i loro collaboratori, i loro dirigenti sono vicini e riescono ad accompagnare l'operatore a evolversi e a iniziare per chi non li aveva diciamo così, non li sapeva utilizzare gli strumenti digitali oppure iniziare un percorso nuovo per imparare a utilizzarli. Noi come federazione abbiamo attuato da subito tantissimi ovviamente corsi online, tantissimi webinar, la formazione è uno dei motivi che dà un senso dell'essere di far parte di un'associazione di categoria unitamente ovviamente agli strumenti operativi e all'attività politico sindacale. Noi produciamo una miriade di corsi formativi, informativi, quindi attività di aggiornamento e di preparazione professionale che ovviamente è fondamentale come dicevamo, come chi mi ha preceduto ha evidenziato molto bene. E' chiaro che la formazione nel nostro ambito, nel nostro lavoro ha una miriade di sfaccettature perché da una parte ci sono delle competenze, le chiamiamo trasversali, perché ci sono delle competenze tecniche se vogliamo, legali, fiscali, ovviamente per quello che concerne l'ambito dell'intermediazione immobiliare ci sono delle competenze psicologiche, quindi empatiche, quello che dicevamo riuscire a capire parlando, facendo le domande giuste, le reali esigenze di chi abbiamo di fronte ci sono delle competenze tecnologiche appunto sempre più importanti dall'ambito digitale e non dimentichiamolo, competenze commerciali, di marketing, perché poi noi, io dico sempre che se poi il professionista non vende, è chiaro che non riesce poi a produrre ciò che è necessario per portare avanti la sua azienda e per anche far crescere la sua famiglia e i suoi collaboratori insomma e tutti quanti, quindi una serie di competenze importanti, credo che la vera sfida per chi rappresenta all'onere, ma anche il grande onore di rappresentare la categoria sia riuscire a incidere sulla nostra legge professionale, la 3989, in due ambiti sia nel processo di accesso alla professione, quindi nei corsi professionali della 3989 quindi di accesso alla professione e sia nell'ambito di riuscire sempre normativamente a far sì che vi sia una formazione continua, quindi con dei crediti formativi come accade per altre professioni. Noi abbiamo in Italia, ogni regione ha dei corsi, realizza dei corsi che vanno dalle 80 alle 220 ore, 80 a Calabria, Sicilia e quant'altro e la Lombardia con 220 ore. Ecco, una sfida importante sarà che come consulta abbiamo già iniziato, abbiamo già fatto un primo tentativo due anni fa, ma riproporremo appena le priorità pandemiche che ci consentiranno di affrontare questo tema, di uniformare le ore di questi corsi di accesso alle professioni e quindi in tutta Italia, non di avere questa differenziazione, c'è chi ne ha 80 ma c'è chi ne ha 100, 120, 140, 150, 190, è impossibile. E anche i contenuti di questi corsi perché le materie, l'estimo, il diritto, ma anche agenti immobiliari con una certa esperienza che possono e devono essere docenti all'interno di questi corsi perché è vero, capita già in alcune realtà, ma macchia di leopardo. Invece è molto importante che questi corsi siano uniformati sia a livello appunto di ore e sia di contenuti con una presenza fissa di una docenza, di chi poi sa, conosce il mercato, come si opera tutti i giorni, io dico sotto la pioggia o col sole o comunque con tutte le criticità che il nostro lavoro comporta e possa quindi far percepire anche, non solo le cose belle del nostro lavoro, ma anche le criticità. Quindi corsi di accesso alla professione, ma anche formazione continua, è fondamentale che ci sia una formazione anche qui il più possibile con delle materie omogenee indicati in un percorso che rendano la nostra figura realmente professionale, perché purtroppo io e anche l'altro giorno eravamo a andare ai tre, ci chiamano spesso perché, scusate, alcuni nostri colleghi fanno dei casini. Cioè è una cosa, è chiaro che in tutte le professionalità ci sono chi, ma noi operiamo in un ambito molto 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 delicato, quindi riuscire a poter dire, la nostra legge dice come diventare agenti immobiliari, ma non come svolgere l'attività di agenti immobiliari, riuscire a dare un quadro con 4-5 elementi che tutti quanti nell'accesso alla professione, nel mantenimento di quest'area e quindi della nostra presenza come agenti immobiliari, della nostra professionalità, sia indicato uguale per tutti. Poi le reti, le aziende, ognuno individualmente, tramite le reti daranno un loro, come dire, marchio di fabbrica e quindi una loro specificità come giusto che sia, ma almeno che ci siano, io la chiamo una spina dorsale comune per tutta la categoria e questo è un impegno che chi fa associazionismo e noi come consulta sono convinto e sono certo porteremo avanti.